È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2015 del Carnevale di Fano, in programma con le sfilate dei carri allegorici per tre domeniche, 1, 8 e 15 febbraio. L'attesa è tanta sia per gli addetti ai lavori come per i maestri carristi che stanno ultimando i quattro carri di prima categoria che percorreranno via le Gramsci la domenica pomeriggio, sia per fanesi e turisti che si apprestano a vivere la magia e il divertimento della manifestazione più dolce e più antica d'Italia. Ridere, la risata fa bene, fa bene alla salute e fa bene a tutto. L'abbiamo dimostrato e ve lo dimostreremo al Carnevale di Fano. Ridere, come vi dicevo, porta benessere, benessere al nostro corpo, benessere anche economicamente perché attraverso il Carnevale si ride e si fa arrivare tanta gente nella nostra regione e quindi si porta ridere e solidarietà e quindi il filo conduttore che tu mi chiedevi sarà proprio la risata e grazie anche allo yoga della risata, ai clown di corsia e ai comici del San Costanzo Show, quest'anno si riderà tanto, tanto, tanto al Carnevale di Fano, 1, 8 e 15 febbraio. Gli eventi più importanti, le sfilate dell'1, dell'8 e del 15 e come la tradizione vuole, la grande festa del Giovedì Grasso e il Rogo del Pupo è il martedì, quindi l'inizio e la fine del Carnevale, sono ormai le tradizionali appuntamenti più importanti del nostro Carnevale. Da non dimenticare poi vari eventi che si svolgeranno al Teatro della Fortuna, legato al nostro Carnevale, al nostro programma. Ogni sabato precedente alla sfilata ci sarà una manifestazione a teatro abbastanza rilevante, abbastanza importante, altri appuntamenti legati alla cultura attraverso convegni e presentazioni di libri.